Buongiorno a tutti intanto, inizierei appunto facendo i complimenti a Isolotto che sono veramente bravissima, sono stata anche a vederle, ero anche delle amiche lì e quindi complimenti pubbissimi per questa Coppa Italia e poi niente, noi siamo felicissime di essere qui, vi ringraziamo a nome di tutta la squadra per questo riconoscimento, comunque noi siamo molto orgogliose, anche se non siamo di Firenze, di essere a Firenze e quindi per noi è un riconoscimento molto importante sia come atlete e soprattutto come donne in una giornata come questa e quindi vi ringraziamo e speriamo e sogniamo con voi questo scudetto, sarà dura ma noi stiamo lavorando ogni giorno per arrivare a quello e per portare in nome a Firenze delle donne il più in alto possibile.